Insieme all'arbitro italiano e a quello indiano sono stati nominati gli altri tre giudici che si occuperanno del caso Marot. Un coreano, un giamaicano e il presidente, un russo, Vladimir Golitsin. Il tribunale arbitrale dell'AIA intende ora tenere una prima riunione con le parti per discutere il quadro procedurale e il calendario per le osservazioni, in forma scritta e orale. In seguito, nella prima udienza disponibile, il governo italiano riproporrà la richiesta di rientro di Salvatore Girone da Nuova Deli, respinta nell'agosto scorso dal Tribunale Internazionale del Mare di Hamburgo. Lo stesso tribunale ha imposto all'India di sospendere ogni tipo di giurisdizione sul caso. Nella controversia, l'Italia ritiene che l'incidente sia avvenuto a 20,5 miglia nautiche a largo delle coste indiane, che ha coinvolto la nave Erika Lexi, una petroliera battente bandiera italiana e il conseguente esercizio della competenza penale dell'India nei confronti dei due fucilieri della Marina Italiana. L'India sostiene che l'incidente riguardi la morte di due pescatori indiani che si trovavano a bordo di un'imbarcazione, di cui sarebbero responsabili due fucilieri in servizio e il conseguente esercizio della competenza indiana.